Uno dei luoghi archeologici della nostra Versilia più belli, parliamo di Massaciuccoli nel comune di Massarosa, ha ospitato all'interno dei suoi padiglioni oggi una bella, bellissima mostra di Sergio Fortuna. La mostra si intitola Emergenze ed hanno una tecnica alle opere esposte del tutto particolare. Ci troviamo nel Tempio della Romanità della nostra Versilia. Alberto Magnolfi è il curatore di questa bellissima mostra. Che cosa si racconta? Che cosa si racconta di questa mostra? La mostra è appena stata allestita e stiamo aspettando il riscontro di pubblico. Questa mostra vuole raccontare non soltanto la storia di un posto, è stata scelta questa location in virtù del lavoro fatto e non viceversa. Il lavoro vuole raccontare una riscoperta, una suggestione più che una riscoperta. Attraverso le verature Sergio Fortuna vorrebbe infondere, come già abbiamo fatto nell'esperienza di generazioni e delle altre iniziative che mi hanno svolto insieme sul territorio, delle idee che nascono dall'interno. Sono delle, non delle riscoperte ma delle vere e proprie scoperte. Sono muri che svelano altre realtà, realtà attraverso la superficie. Velature giustapposte, sovrapposte. Non si capisce chi è il protagonista all'interno, se è lo sfondo o se è la figura che ne emerge. A loro volta si attraggono, si respingono, si esaltano. È un lavoro che va accolto su più livelli. Sergio ha lavorato su più livelli con il supporto di tecnologie e per comunicare in pratica delle emergenze. Emergenze che vale sia come il lavoro che emerge l'uno sull'altro, sia per voler condividere il livello di emergenza che il patrimonio archeologico, artistico, oggi corre di continuo, proprio per l'incombere del tempo e delle risorse che vengono a mancare. Questa è un'iniziativa che Sergio ha voluto allestire con i propri mezzi, senza valutare di altri supporti ulteriori, proprio perché il genere di cose che nasce dal basso e deve germogliare in maniera spontanea attraverso un riscontro di pubblico che si basi sulla suggestione più che sulla scoperta. È una vera e propria scoperta interiore. Sono opere su cui è facile soffermarsi a lungo. Estremamente contagioso lo spirito che emerge dalla comunicazione. Certe cose non vanno neanche spiegate, possono solo essere condivise. Per questo quindi invitiamo il pubblico a partecipare per poterle vivere in maniera diretta e potersi magari confrontare. Siamo all'interno di uno dei padiglioni archeologici romani che fa parte del comune di Massarosa. Non è soltanto in questo padiglione la mostra, ma ha appendici anche altrove? Assolutamente. Sì, abbiamo deciso, siccome è un territorio piuttosto vasto e condiviso, abbiamo deciso di usare i due padiglioni, in pratica quello storico ormai è questo che già è stato utilizzato per altre importanti mostre durante il corto della stagione, anche in un locale qua vicino che si chiama Luna nel Lago, dove continueremo in pratica questa serie di incontri nel quale sarà possibile condividere le suggestioni che sono nate a questa esperienza. Esperienza che non deve essere fine a se stessa, vuole essere in continuità con un percorso che da lunghissimo tempo io e Sergio abbiamo già cominciato a fare insieme attraverso esperienze di rigenerazione alla Brilla e tutte le cose successive. Non ci siamo mai perse di vista proprio perché le cose vanno condivise e devono servire a contagiarci reciprocamente. E il prossimo progetto su che cosa verterà? Appunto, si basa su questo qui. Dall'emergenza non si capisce mai che cosa viene fuori, è giusto che siano cose che germoglino senza avere delle finalità né immediate. È quasi il contrario di questo. Vorremmo che fosse uno sguardo rivolto al passato per poter ammirare la cornice che c'è intorno ed un'ipotesi di futuro ancora da scrivere, da descrivere, da scoprire. Sergio Fortuna è l'autore di questa mostra. Qual è la tecnica che è stata impiegata per questa realizzazione? Dunque, la tecnica è fotografia. Queste sono solo fotografie. Alcuni dicono che sembrano dipinti, ma non sono dipinti, sono solo foto. La tecnica è questa. Dunque, c'è una texture di fondo. Il fondo, questo qui che è un muro, muro scostato, crepe. Io prendo di tutto perché seguendo i lavori di ristrutturazioni mi capita di trovarmi in ambienti dove ci sono questi colori, questi giochi di luce, queste crepe, queste scostature. Io prendo queste cose qui, me le metto da parte e poi dopo, andando a pescare nel mio archivio, dove io ho lavorato molto con la figura, con il ritratto, con l'erotismo, con un sacco di cose ho fatto, prendo delle foto dall'archivio, le scansiono e poi le porto in sovrapposizione tramite i livelli sulla sulla texture, sullo sfondo. E poi dopo mi diverto a cancellare le parti che non sono intonacate, dove manca il colore, io ci levo e praticamente vedi che manca un pezzo di immagine che io ci ho messo sopra. E così poi dopo con l'opacità devo sempre sfumare un pochino perché non può avere i toni della stessa intensità che ha il file originale, capito? Allora va sfumato e poi dopo va cancellato proprio la parte che voglio e poi va sfumata le cose che voglio sfumare, che voglio con i pennelli. Su Photoshop ci sono un sacco di cose, io non è che sono espertissimo di Photoshop, però mi sono molto divertito a fare queste cose e ho scoperto una cosa, che è molto difficile trovare il soggetto giusto da mettere in sovrapposizione all'immagine che ho scelto come fondo. A volte le cose possono andare bene, altre volte invece dopo aver lavorato un'ora butti via tutto perché ti rendi conto che è una cavolata, capito? Ecco, poi dopo la carta, la stampa deve essere una carta di qualità, puoi stampare su, anche se alcune cose ho provato a stamparle sulla carta Fabriano d'Acquerello e alcune vengono bene, altre no, però ci sono certe cose che vengono molto bene. Però la carta migliore è la carta Fine Art, quella fotografica, cotone 100% che ti dà questi risultati qua. Il curatore della mostra non si è voluto sbilanciare su quello che sarà il prossimo impegno, la prossima mostra, hai già qualche idea? No, mi stanno dicendo tutti goditi questa cosa e farla girare se è possibile più che puoi perché qualche cosa in mente ci avrei però ancora non, e poi non si dicono mai le cose prima, come minimo te li fregano e te li sciupano subito, no? Quindi resta un mistero? Resta un mistero, il voglio che resti un mistero, qualche consiglia mi frulla per il cervello però. Vediamo un po', intanto facciamo, ecco, godiamoci i risultati di questa e poi dopo vediamo un po' quello che succede. Federico Pierucci, consigliere delegato alla cultura e al turismo del comune di Massarosa. Il centro archeologico, il sito archeologico più bello dell'intero comune, ospita questa bellissima mostra? Sì, assolutamente, prosegue il nostro progetto legato all'area archeologica di Massaciuccoli Romana, da anni ormai l'amministrazione sta investendo tutte le sue energie in campo culturale su questo sito, su quest'area archeologica, sui nuovi padiglioni e anche naturalmente sull'area museale e da quest'anno abbiamo deciso di puntare in maniera decisa anche sulle mostre all'interno dell'area archeologica, proprio perché crediamo che questo sito che nei secoli ha rappresentato un punto di riferimento per viaggiatori, per passanti, questa era una stazione di sosta oltre che la villa della famiglia Patrizia dei Venulei, possa essere oggi un luogo dove il turista, il visitatore può ammirare anche delle stupende opere d'arte come quelle che oggi sono esposte qui e coniugare i due aspetti, quindi quello della passione per l'arte di oggi e quella per l'archeologia che accomuna tanti cittadini fuori e dentro il nostro territorio. Prossimi appuntamenti o prossime iniziative in quest'area archeologica? Sì, da quest'estate abbiamo dato il via anche a un percorso dedicato al teatro classico all'interno dell'area archeologica e negli scavi che intendiamo portare avanti anche nel prossimo futuro per prepararci all'appuntamento del 2017, visto anche l'alto numero di pubblico che quest'estate abbiamo riscontrato. È di oggi anche la notizia che l'amministrazione ha deciso di consentire i matrimoni civili all'interno dell'area archeologica, quindi all'interno della villa. Credo che sia uno scenario eccezionale tra storia, lago e mare che porterà tantissime persone a scegliere questo sito per il loro sì, quindi per il loro matrimonio. Tutto questo fa parte di quello che dicevo prima, il nostro progetto, il focus su Massaciuccoli, Massaciuccoli Romana, Oasi Lipu, Lago, Battello, aree archeologiche, scavi archeologici e mostre di questo calibro che porteranno anche tanti artisti sul nostro territorio. Quindi andiamo decisi avanti su questo progetto che è il progetto dell'amministrazione, quello in cui la nostra amministrazione crede e speriamo svilupparlo anche con l'aiuto delle tantissime associazioni che collaborano con noi, prima tra tutti il GAM, l'Oasi Lipu, i donatori di sangue, quindi è un sistema che va costruendosi col territorio e di questo siamo molto felici. È un parterre straordinario perché c'è il realizzatore della mostra, il curatore della mostra e soprattutto un giovanetto di 104 anni che di mostre e di pittura se ne intende parecchio. Intanto grazie Giorgio di essere venuto qua giù da noi. Hai visto la mostra? Non ancora, ma le opere di Sergio le ho seguite mano a mano, che nascevano. Però come sono state sistemate in questo bello spazio che non conoscevo, dopo me la guardo con calma. Adesso mi hanno messo un bicchiere in mano, scusa, e devo brindare. Brindiamo al successo di questa mostra. Le foto di Sergio Fortuna sono conservate a Museo d'Arte Erotica a Parigi, nel Museo dei Bozzetti a Pietrasanta e al Centro Documentario Storico del Comune di Viareggio. Un plauso dunque a questo fotografo viareggino che ha esposto le sue opere qui nei due plessi archeologici di Massarosa perché il prodotto finale è davvero emozionante. Grazie a tutti.